ecco così si vede meglio anche il paese allora torniamo in diretta dalla diga del vaionta prima di cominciare la seconda parte velocemente devo provare a spiegarvi due cose la prima riguarda il disegno sulla lavagna che come spero riusciate a leggere rappresenta uno spaccato della valle uno spaccato che prende longitudinalmente la valle questa è la diga da questa parte c'è il monte salta dove stanno i paesi dall'altra parte il monte toc quello di cui ci occupiamo stasera questi segni sono l'acqua quando il serbatoio sarà riempito un altro segno il torrente vaiont che esce dalla diga il fiume piave dall'altra parte del piave un altro paese tutto questo serve soltanto a dare i numeri possibilmente esatti fino adesso di numero ve ne ho dato uno soltanto cioè 261 metri che è l'altezza della diga adesso mi servono le quote sul livello del mare per poterle ricordare fino alla fine del racconto le do partendo dal basso il piede della diga parte a metri 460 sul livello del mare e arriva a 721,60 lassù casso in cima uno spuntone è a 930 metri d'altezza sul livello del mare e in fondo alla valle erto è a 780 metri sul livello del mare molto più vicino quindi alla diga e al bordo del lago molto più in basso di casso c'è un altro numero quello di l'ongarone l'ongarone fuori dalla gola dall'altra parte del piave si trova si trova praticamente alla stessa quota del piede della diga 460 metri sul livello del mare vedrete che i numeri ci servono l'ultima cosa è questa ecco ho preparato una sveglia mi tolgo l'orologio la vedete che ora fa la leggete bene 10 meno un quarto esatte allora per favore i vostri orologi non guardatevi più anche a casa cambiamo fuso orario tiriamo indietro di quasi un'ora e ripartiamo da qui non vi tengo qua un'ora in più vabbè alla fine del racconto vi ribeccate la vostra ora ma cambiamo fuso orario in maniera da poter arrivare a una certa ora che ci interessa in modo particolare questa sera d'accordo io l'ora la chiedo a voi non guardo l'orologio ogni tanto ve lo chiedo mi rispondete grazie comunque non ci siamo ancora alle ultime ore siamo indietro siamo ancora il 1960 abbiamo tre anni da raccontare tre anni che cominciano appunto col 1960 che cosa accade aprono i rubinetti iniziano a metter l'acqua nella diga ancora in costruzione da finire ma inizia la prima prova di invaso e cos'è una prova di invaso insomma è come un alluvione esagerato è un alluvione controllata sì la sola differenza con l'alluvione spontanea è che è permanente e se quelle che vanno sotto sono le case dove sei nato bene ha qualche differenza la fa e argomenti romantici lascia stare d'accordo ma cosa fai guardi le case che vanno sotto così no porti via il salvabile travi coppi serramenti tutto quel che si può portare via dalle case si salva o no e quando l'acqua circonda le case non puoi più andarci a piedi coi fusti dell'olio le tavole sopra qualcuno dei ragazzi fa delle zattere va a navigare sul lago a portare via roba dalle case ma tutto sto casin questo via vai sul suo lago la sade non lo sopporta e fa un'ordinanza tipicamente veneziana un divieto di navigazione che è la cosa più estranea alla mentalità di chi è nato in una valle senza acqua e quelli vanno a navigare lo stesso e vengono multati mentre l'acqua sale dovrebbe fermarsi dovrebbe fermarsi a metà della diga all'inizio per la prima prova di invaso dovrebbe fermarsi a quota 600 sul livello del mare e lì dovrebbero fare la prova di invaso cos'è è un collaudo come una prova di carico come la fai la prova di carico su un ponte semplice riempi il ponte di camion poi tiri via i camion se il ponte c'è ancora è collaudato così si fa no stessa cosa con la prova di invaso metti acqua fino a un certo punto dopo per controllare devi cavare anche l'acqua toglierla vedere che sia tutto in ordine ma non è mica una vasca da bagno una valle così e ce ne vuole di acqua cavare mettere e allora e allora ci vuole tanto tempo e il collaudo è una formalità l'impianto è praticamente fatto allora questi tempi burocratici se si accorciano meglio perché si entra in produzione prima allora ottengono un'autorizzazione a far salire l'acqua fino a quota 660 sul livello del mare durante la prima prova di invaso senza doverla togliere nel frattempo e l'acqua durante la primavera tarda estate del 1960 sale verso questa nuova quota 640 650 6 e se non arriverà a toccarla perché come arriva a bagnare quota 640 650 comincia evidentemente a toccare a bagnare i piedi e forse poi le ginocchia di quella frana e comincia a succedere qui al vaion quello che un anno prima era successo a ponte 6 rumori sordi dentro la montagna i bambini di Erto imparano a ruttare fortissimo Mario macchie giallastre localizzate nell'acqua del lago eh piccoli segni di franamento cominciano a dirselo quelli che vanno a tagliare l'erba quelli che vanno a navigare la casca e la viene e la casca e la viene e la casca e infatti no ma io non sto parlando della frana del 9 ottobre del 63 e no io sto parlando della frana del 1960 perché i segni di avvertimento a volerli leggere ci sono tutti qui e non cade nemmeno un giorno qualsiasi no perché pare che l'abbia scritto un recantico la storia e dunque no il primo aprile è già avanzata l'estate siamo in autunno cade in un giorno ancora più significativo dopo una settimana di precipitazioni straordinarie che da queste parti un anno sì e un anno no arrivano la frana si stacca e piomba nel lago in data 4 novembre 1960 che non è più la festa della vittoria no per piacere è la festa dell'acqua in questo paese che giorno l'arno ha allagato firenze 4 novembre del 66 sì e l'acqua alta del secolo a venezia lo stesso giorno sì ma scusate che giorno il tanaro ha allagato il piemonte il 5 novembre del 94 sempre in ritardo i piemontesi allora per piacere state attenti dove siete il 4 novembre di quest'anno perché un anno sì e un anno no succede e siccome l'unica prevenzione possibile è quella di prendere gli italiani e spostarli dove non piove non è che io voglio portare sfiga è che è un colabrodo maledizione basta non ne voglio parlare qui ovviamente quello che volevo dire è accaduto il 4 novembre chi chiamano in questi casi Tina Merlin non posso al bambino porta anche lui non ho la macchina con tuo marito con la ford anglia sotto il diluvio universale arrivano al vaion troppo tardi il giorno dopo la sade ha già fatto recintare la frana coi reticolati ma sai dall'altra sponda del lago la vedi benissimo e poi nessuno può recintare qualcosa che è accaduto su in alto sul toc che hanno visto i malgari che hanno visto i contadini boscaioli che hanno visto tutti il marito della Merlin viene accompagnato la sua a vedere coi suoi occhi che cosa è comparso sul tocco un segno questo loro non sanno cos'è ma voi sì la m di Müller che è apparsa in tutto il suo splendore molto più in alto di dove ci si aspettava che potesse arrivare una frana in realtà capito cos'è accaduto che cos'è è uno slittamento una trincea della prima guerra mondiale di circa un metro che segue per un perimetro di quasi tre chilometri la montagna è caduta sì una frana il 4 novembre uno spuntone davanti è caduto nel lago ma l'intera montagna su in alto ha fatto uno scivolone in avanti di un metro tempesta di cervelli la sade convoca al vaiont una riunione scendendo dalla montagna quelli che sono andati su a vedere vedono transitare sulla diga macchina nera scendere un uomo barba bianca dal piazzo e tutti gli altri esperti per fare appunto una tempesta di cervelli brainstorm gli americani dicono così tempesta di cervelli si prende quelli che sanno pensare si chiude in uno stanzone gli si fa piovere sopra sembra che questo fa germinare le idee se lo dicono gli americani sarà anche vero io me l'immagino dentro questa stanza tutti umili bagnati neri incazzati tranne uno istriaco che gode sono tutti convinti ormai che qui ha ragione muller c'è una frana compatta e caloi quello che sosteneva l'esistenza di una frana superficiale no ha fatto nuove indagini e dice che con l'immissione dell'acqua nel serbatoio la roccia ha avuto un rapido processo di degenerazione quanto rapido a me da bambino mi ha sempre detto sta saldo come una roccia ma o era già degenerata un po o ok o siamo in presenza di forze mai viste siamo in presenza di movimenti in grado di sgretolare lo zoccolo duro su cui poggiava la frana del toc l'unico che sembra comprendere a fondo la situazione è muller muller la frana si può fermare ormai no ormai no ma ve la immaginate una riunione così qual è la prima cosa che fanno licenziano i geologi perché è dimostrato che demoralizzano la truppa dopodiché si spremono gli ingegneri per trovare la soluzione perché non è nemmeno concepibile con i soldi già spesi l'impresa realizzata di fare un passo indietro a questo punto ma non si si tratta di rimuovere l'ostacolo sulla strada del successo è vero sono tutti convinti che cade una montagna e allora largo al concorso di idee quelli che si sfogano giovani ingegneri rampanti dicono si potrebbe far cascare la frana con la dinamite facendola tagliare a fettine sottili che cascano come un famoso prosciutto nella sua vaschetta che è la valle già conferma conformata a questo scopo altri che dicono non potendo incamiciare il toc con un impermeabile in calcestruzzo per ovvie ragioni economiche si potrebbe bensì far cadere alcuni spuntoni avanzati della frana crepe effetto che sia nei ghiacciai o negli iceberg quando crollano le fette davanti che bloccando l'alveo in basso della frana diventino un puntello che sostenga il resto della frana su comunque sia sono tutti convinti qui che bisogna far cadere la montagna ma a questo punto è la società ad avere dei forti dubbi anche il consiglio d'amministrazione perché perché se cade una frana di queste dimensioni e ma mi viene a bloccare la valle qua e là mi resta un laghetto piccolo attaccato alla diga e quello oltre alla frana cos'è un lago alpino in omaggio al comune di erto qui la tecnica però ci viene in aiuto gli ingegneri propongono sì ma se qui costruiamo un sifone come un sifone beh per il principio dei vasi comunicanti se collego due serbatoi con una canna sul fondo avrò sempre lo stesso livello dalle due parti giusto qui in realtà non serve un sifone mi basta scavare una galleria sul fondo del lago contro la sponda destra del bayonne sotto il monte salta che è roccia compatta una galleria che mi unisca il dietro col davanti del fronte della frana dopo può cascarci sopra una montagna intera che io avrò comunque un unico lago in due parti collegate da un bypass costo un miliardo dell'epoca ma è tantissimo all'epoca rispetto al costo del bayonne ma è un 15 20 per cento insomma è un capitale ma è l'unico modo di salvare l'impianto il consiglio d'amministrazione nella tempesta delibera l'approvazione della spesa subito e e dei paesi sulle sponde non è all'ordine del giorno la questione intanto è come salviamo l'impianto in ogni caso facendo la galleria sistemiamo anche i paesi perché l'acqua del lago non potrà salire fino a diventare pericolosa questo si decide di governare in proprio la situazione senza pubblicità ma ma il 17 di novembre stesso anno stesso mese arriva al bayonne la terza volta l'allegra commissione di collaudo boia duncane sono sempre qua questi hanno tutti ormai una coda di paglia come il tubo dell'acqua lunga al bayonne tutti convinti che qui sta ormai cadendo giù una massa di frana compatta tutti pessimisti tranne uno chi il geologo della commissione di stato penta ricordate lui ha è arrivato sì con le sue indagini a due conclusioni possibili dice qui allora o siamo in presenza di una frana compatta profonda tipo quella indicata da muller o siamo in presenza di una frana più superficiale tipo quella indicata da caloi lui non sa scegliere tra le due ipotesi ma propende per l'ipotesi minore quella di caloi che non propende più per la sua ipotesi ma il geologo di stato forse stretto fra troppe pressioni sì perché dice che se fosse vera l'altra ipotesi bisognerebbe ammettere che qua in movimento una massa di terra inconcepibile e per non poterla concepire lui propende per l'ipotesi minore il 30 di novembre stesso anno apre a milano il processo contro tina merlin e il suo giornale rei d'aver pubblicato notizie false atte a turbare l'ordine pubblico apre il processo e chiude in sei ore assolta la giornalista il suo giornale ma per forza perché nel frattempo è cascata la frana del 4 novembre ma quali notizie false se è già successo il giorno dopo l'unità vittoria e in valle del piave in 7 vittoria 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 diamogliela vinta il primo gol che fanno perdevano 18 a 0 fan 18 a 1 è come quando i giochi scapoli ammogliati stai perdendo 18 a 0 non hai più voglia poi fai un gol e parche se ci impegniamo vero magari vincere no ma pareggiare sì è possibile 17 gol in mezz'ora si può fare ti cambia il mondo psicologicamente quando fai l'ultimo gol per un comitatino non essere più abbandonati sentire che adesso l'autorità costituita la provincia di belluno ha messo noi piccolo vaionta all'ordine del giorno finalmente ne parlano i grandi il presidente della provincia di belluno si chiama da borso è democristiano la merlin comunista di quello lì nel libro scrive un uomo buono un galantuomo e io penso a mio nonno viva dio si può anche stimare un avversario continuare a mantenere l'avversario o no ma questo signore buono che ne sapeva del vaion niente gli hanno mandato di chiedere al suo superiore sull'argomento è il ministro dei lavori pubblici che non è più quello del circo no era cambiato era un altro che è passato poi alla storia con la faccia e anche la reputazione di uomo buono benigno zaccagnini che ne sa zaccagnini del vaion chiede al genio civile che si lava le mani lo mandano al servizio dighe chi avete di competente sul vaion al servizio dighe il geologo penta l'unico ottimista fa la relazione al ministro dicendo sì è vero è cascata una frana il 4 novembre ma a erto esagerano in quella valle dopo la caduta della frana al vaion la sade ha preso provvedimenti lungo il perimetro della grande frana presunta hanno fatto montare una rete di 24 punti di rilevazione luminosa che sarebbero che sarebbero delle paline in ferro bianche e rosse con una lampadina sopra che se la frana cammina si vede anche di notte bello poi la sade a spese sue ha fatto montare alla diga due sismografi che sentono anche le scosse di terremoto in cile in cile ringraziano è sempre a spese sue ha dato incarico all'università di padova di fare delle prove su un modellino per vedere le conseguenze di una frana su un serbatoio come vaionto zaccagnini rassicurato trasmette ad avorso che è buono ma non tre volte che qui da noi vuol dire mona da borso capisce se le cose sono così che l'università fa prove di catastrofe ma le cose sono più gravi di come pensava lui va a roma una settimana negli uffici a bussare a chiedere notizie della sade del vaion e non ottiene torna indietro non ha niente da dire lo accusano di coprire il ministro e lui sbotta che non ha potuto perché contro la sade è difficile perché è come uno stato nello stato ah sì le frasi fatte e lo so l'hai già sentito è come dir muro di gomma che retorica e quando l'hai sentito è certo da piazza fontana in poi la strategia della tensione lo stato nello stato e cosa sto dicendo che ci siano talmente vaccinati che non riusciamo a riconoscere le parole sto dicendo che queste parole le usava nel 1961 otto anni prima di piazza fontana a verbale un uomo del governo dello stato non per indicare strategie della tensione ma poteri all'interno dello stato al di sopra dello stato potenzialmente assassini ma chi sei dio intanto quell'inverno il ghiaccio ti inferma quella frana e loro dicono ma che si è fermata certo si è fermata un corno aspetta il disgelo a primavera a vedere se quella frana si è fermata sul serio per favore ma è inutile discutere di questo perché intanto la galleria di sorpasso sta venendo avanti veloce certo lavorano a tempo di record han tolto l'acqua dal lago stan scavando sul fianco del monte salta senza dir niente a nessuno ma la merlin è una giornalista che sa fare il suo mestiere gli operai alla sera alzano il gomito anche i tecnici parlano se a intervistarli è una bella donna oltre che una brava giornalista e quella sa farle inchieste ci vuole il suo tempo ma mette insieme i materiali a febbraio ha pronto un articolo lo manda al suo giornale che si stampava a milano all'unità l'articolo della merlin non esce sette giorni di tentenna perché perché magari anche quelli lì si sono convinti che questa si sia montata la testa dopo che ha vinto il processo ma questa montanara testa dura senza prove insiste se non che all'unità a milano c'è un giornalista di erto sante della puta io immagino la telefonata in nertano bellunese di questi due con tutta la redazione che non capisce ma esce l'articolo una frana di 50 milioni di metri cubi minaccia vita e averi degli abitanti di erto è grossa ma non per le sei colonne in cronaca è grossa perché una volta tanto è come poter dire attenzione c'è una frana grande esattamente come la valtellina pronta a cadere sappiamo dove come quanto e no questo non lo sapeva nessuno poteva sapere che la frana era stimata almeno quattro volte più grande ma non era stato comunicato a nessuno e no sono documenti riservati intanto la galleria di sorpasso è praticamente finita entro l'estate va viene la commissione di collaudo per dare l'autorizzazione a a rimettere l'acqua la sade a fretta vuole incominciare a fare nuove prove d'invaso perché hanno perso un sacco di tempo e in quei mesi in italia è fiorita una parola nuova nazionalizzazione delle industrie idroelettriche mamma mia c'è il rischio di perdere il vaion prima ancora di aver finito l'impianto le ali ai piedi le autorizzazioni del servizio dighe sono un po lente diciamo che se chiedi 680 ti danno 620 se chiedi 700 ti danno 640 e cosa fanno non possono mica aspettare si portano avanti vanno sempre un po più in là delle autorizzazioni tanto poi le autorizzazioni arriveranno seguono un programma di invasi che chiamano cosiddetto programma pancini dal nome dell'ingegnere capocantiere che segue questa logica far salire scendere l'acqua in modo discontinuo salire l'acqua fino a una certa quota aspettare un paio di giorni o qualche giorno in più che l'acqua si infiltri bene nella montagna e poi provocare uno svaso rapido per provocare l'effetto crepe cioè il distacco delle fette più avanzate della frana salire impregnare distaccare ma non ce la fanno questo movimento ripetuto per mesi per mesi per mesi provoca al massimo un piccolo distacco ma del resto in alto la montagna slitta scivola scuote fa boati si allungano i capisaldi uno rispetto all'altro di 6 metri in certi punti ma la cosa strana è che il movimento non è soltanto in direzione verticale ma anche in orizzontale cioè non si sta muovendo una fetta superficiale di terreno ma è l'intero zoccolo della montagna che si sposta in avanti ed è il terreno sotto profondo che continua a macinarsi con questi invasi e svasi con l'azione dell'acqua in superficie i risultati sono pressoché nulli e intanto l'acqua sale scende sale scende con le autorizzazioni che gli arrivano sempre in ritardo ma non avete l'autorizzazione di giocare con l'acqua fino a quelle quote l'autorizzazione arriverà hanno ragion loro l'autorizzazione arriva sempre l'autorizzazione a metter l'acqua fino a quota 680 che è già stata raggiunta da un bel po' arriva il 23 dicembre regalo di natale da due mesi però l'ingegner semenza il progettista della diga è morto chiedendo perdono a dio alle montagne se talvolta col suo operato ha mancato a loro di rispetto al dubbio semenza stavolta di aver fatto il passo più lungo della gamba cinque mesi dopo di lui muore dal piazza e tutti e due i testimoni della storia fuori scena prima del finale chi entra al comando del vaiont? due personaggi l'ingegner alberico biadene detto nino che era il vice di semenza è il capocantiere pancini uno di sé dirà io ero il supervisore l'altro dirà io ero l'esecutore comunque biadene è la carica più alta in governo qui al serbatoio del vaiont biadene entra nella stanza dei bottoni a gennaio del 62 e gli capitano in mano i rapporti che la sade manda al ministero hanno raggiunto un compromesso eh? ah sì sì il ministero rinuncia a mandare la commissione in gita al vaiont la sade si controlla da sola il risultato non cambia e il ministero risparmia qualcosa sulle spese nei rapporti biadene si accorte che hanno si accorge che hanno indicato scosse di terremoto in corrispondenza degli invasi e svasi del serbatoio chiede ai tecnici cosa avete scritto? ah ingegner ogni volta che facciamo muovere l'acqua scuote la montagna il sismografo fa tac ma senti cancellatelo ma ingegner se si gravano le scosse segnaliamo al ministero scosse di questa entità le governiamo noi come dire che al ministero non saprebbero capirle queste noi riusciamo ad amministrarle a loro gli fan soltanto confusione sono 5 nel mese di marzo sono 11 nel mese di giugno scusate nel mese di aprile 17 nel mese di giugno e 21 oddio 21 nel mese di giugno la cadenza delle scosse aumenta regolarmente durante la seconda prova di invaso scuotono le case della valle un giorno sì un giorno no si lesionano gli intona ci sono scosse superficiali che arrivano anche alla caserma dei carabinieri che fanno rapporto alla prefettura che chiede al genio civile che risponde con l'unica perizia esistente sulla valle a firma di dal piazza del 37 cioè prima della costruzione del lago in cui c'è scritto che sì la valle può anche essere soggetta qualche terremoto che però viene dal friuli questo la prefettura rassicurata trasmette i carabinieri i quali fanno notare che qui in pratica il terreno trema la prefettura fa notare che in teoria ai sismografi della diga non si registrano scosse i carabinieri fanno notare che qua in pratica attenetevi alla teoria non trema la terra vi trema il culo bisogna far passare per deficiente no non c'è non è necessario sottolineare in questo bisogna far passare per deficiente la gente che vive qui negandogli l'evidenza ridimensionando il rischio facendo in maniera che non sorgano dubbi ma quando la seconda prova d'invaso dopo mesi va a cessare cesseranno anche le scosse quando l'acqua arriverà a stazionare a un livello basso ma durante lo svaso della seconda prova mentre l'acqua viene tolta ci saranno i più forti movimenti della frana del toc come dire che tra il dicembre del 62 e il marzo del 63 andranno vicini al distacco della frana ma non ci arriveranno in quegli stessi mesi però io devo parlarvi di un'altra cosa prima che si arrivi agli ultimi mesi agli ultimi giorni all'ultima prova d'invaso ma non so se ho il tempo di farlo che ora ho fatto allora rapidissimamente devo parlarvi della prova sul modellino vi ricordate che vi ho accennato prima l'esistenza di una prova sul modellino affidata dalla sade all'università di padova ecco allora l'esperimento viene affidato al professor ghetti augusto ghetti dell'istituto di idraulica di padova ma non può essere fatto a padova perché è troppo casino gente che va gente che viene tutti che guarda che bel che bel no 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 l'esperimento sarà fatto in un comune che si chiama nove sopra un lago che si chiama morto la paura fa 90 la non ficherà il naso nessuno lì nel centro modelli della sade viene realizzato questo modello idraulico unico in italia lungo 40 metri che simula il serbatoio e poi fanno i fianchi dai quali da una parte dovrà provenire la frana del toc e dall'altra parte potrebbe arrivare l'onda del lago del vaiont e come scelgono come fanno a costruire la fiancata perché non cade mica della ghiaia sulla sponda del toc c'è un piano di scivolamento della frana ma chi l'ha mai visto e come fanno a sceglierne uno con il calcolo delle probabilità ne scelgono uno su un milione non sono mai state fatte indagini così approfondite per arrivare a stabilire come è fatto il piano di scivolamento per capirci è fatto come una sedia o è fatto come un asdraio o è un piano inclinato esattamente a 40 gradi chi lo sa allora ne scelgono uno possibile e in base a questo viene simulata su questo piano ipotetico di scivolamento la caduta della frana del toc compatta massiccia rocciosa quale materiale viene usato per fare la frana rocciosa del toc ghiaia del piave tutti d'accordo devo chiedervelo che cosa non ha la ghiaia del piave per simulare la caduta di una frana rocciosa dalla montagna cosa gli manca la compatte è geologa lei signora sì lo so la domanda gliel'ho fatta io in maniera tendenziosa per piacere ma avete visto che ore sono volete che stiamo qua fino a domani mattina solo perché io devo essere obiettivo io sono tendenzioso sapete benissimo da che parte sto non mi voglio mica nascondere dietro un dito ma state tranquilli che quando un giudice istruttore di nome fabbri ha posto in maniera corretta a questi professori dell'università di padova la domanda perché per due anni avete scaricato giù carrettate di ghiaia la risposta che ha avuto perché noi siamo idraulici ce l'han detto i geologi anche la spia fanno ma a me sembra la risposta del processo di non in berga contro i crimini nazisti del tipo noi abbiamo solo ubbidito agli ordini ma possibile che un dubbio in un in un modellino idraulico di fondamentale importanza la scelta dei materiali aver usato ghiaia ti dà dei risultati non confrontabili con la realtà quando hanno rifatto l'esperimento in francia dopo il vaillon hanno usato lastre di calcestruzzo abitate insieme e allora sì hanno avuto risultati confrontabili ma gli italiani dicono sì ma i si sapevano già come era cascata la frana e allora perché non l'avete rifatto in italia perché il giudice fabbri che ha istruito il processo del vaio non ha trovato in italia nessun istituto idraulico disposto a rifare esperimenti che avrebbero creato imbarazzo ai colleghi dell'ateneo patavino e per trovare un collegio di periti ha dovuto girare l'europa per trovare qualcuno che avesse il coraggio di denunciare questo esperimento e la prevedibilità della frana del vaillon se no per l'intero corpo accademico italiano questo è accaduto per pura fatalità straordinario senso civico del dovere dell'intero corpo accademico italiano su questa questione dopo due anni di questi esperimenti il professor ghetti fa la relazione finale che dice abbiamo verificato la caduta di una massa rocciosa nel serbatoio del vaillon della massa di 200 milioni di metri cubi di roccia in due tempi perché in due tempi perché è fatta a forma di m come miller son due gobbe non vorrei mica che caschi tutta insieme no mai una volta un dubbio su 21 esperimenti fatti che potesse cascargli tutta insieme no e dunque abbiamo verificato che all'impatto di questa frana sempre in due tempi con l'acqua del lago se al momento dell'impatto avesse trovato l'acqua alla quota di metri 700 sul livello del mare cioè quanto sotto il ciglio della diga 21 metri mi bastano quelli 21 metri e 60 la frana con l'acqua a quell'altezza avrebbe provocato un'onda di ampia compresa tra i 25 e i 30 metri d'acqua è un palazzo di 10 piani e come vedete avrebbe un piccolo sorpasso della diga con conseguenze anche sulle infrastrutture della diga stessa e anche su alcune delle frazioni di erto e casso che stanno più vicino al lago sotto quota 730 ma il professor ghetti aggiunge attenzione che se quando cade quella frana con quelle caratteristiche che vi ho detto prima però trova l'acqua a una quota più alta mettiamo che trovi l'acqua a quota 715 cioè soltanto 6 metri sotto il ciglio della diga con quella differenza l'onda provocata dalla frana avrebbe un'ampiezza infinitamente più grande con conseguenze catastrofiche all'interno della valle per l'azione di dilavamento delle sponde e oltre la valle per lo sfioro di un'enorme massa d'acqua oltre il ciglio della diga stessa verso i paesi di fondo valle a sono sei anni che è cominciata questa guerra ed è la prima volta che mi fanno entrare in scena il personaggio di longarone fino adesso è stata tutta una questione di erto casso contadini espropri montanari adesso scopri che potrebbe centrare longarone una cittadina che è laggiù due chilometri a valle della diga lontana nessuno aveva mai immaginato che la questione potesse riguardare longarone tant'è vero che come vedete longarone nel modellino del professor ghetti non era nemmeno stata inserita guarda se quello più o meno può essere il modellino longarone non c'è e a questo punto effettivamente il professore ha chiesto alla sade volete finanziare un'altra sequenza di esperimenti per vedere il comportamento dell'onda del bayonne in prossimità dell'abitato di longarone no grazie allora ho finito sì grazie la sade paga per vedere il comportamento dell'onda sulla sua diga non sugli abitati civili a valle ma non ci sono altri esperimenti in corso e gli esperimenti non servono a chi ci abita o a un organismo di controllo i risultati dell'esperimento del professor ghetti vengono chiusi nei cassetti della sade in buona compagnia e nei cassetti del professore a padova e se un assistente del professore non li avesse rubati e consegnati ai giornali chissà quando avremmo saputo di questo esperimento tutto ciò accadde pochi giorni dopo il bayonne ma adesso non ho il tempo di parlare di questa cosa ciò che accadde è che la relazione fu chiusa lì con una raccomandazione che la precedeva o la conteneva che vi era contenuta la raccomandazione di non superare più comunque la quota di metri 700 sul livello del largo sul livello del mare voglio dire perché con l'acqua più alta non si può più governare la frana quindi restate a quota 700 peraltro aggiunge il professor ghetti la quota di metri 700 la potete ritenere di assoluta sicurezza per qualsiasi tipo di evento franoso beata sicurezza intanto siamo nel dicembre del 62 e viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale la legge che istituisce l'ente nazionale energia elettrica vi immaginate quassù al bayonne venezia a casa e calma ci vuol tempo è ci vuol tempo per passare dal vecchio padrone al nuovo padrone il 14 marzo o il 26 marzo insomma in marzo non chiedetemi la data per decreto del presidente della repubblica l'impianto del bayonne che passerà all'enel viene affidato in custodia temporanea alla sade che ne diventa quindi il custode fino all'accompletamento della nazionalizzazione da quel momento si parla di enel sade ci sono i cartelli in giro per la valle è nel sade questo vuol dire vuol dire che in quel momento tutti passano dal vecchio padrone al nuovo padrone ma per chi lavorano per il vecchio per il nuovo sa all'enel della frana del toc e chi è che deve dirglielo anche se io andrò a lavorare per l'enel devo dirglielo io all'enel della frana scusa dai e poi e poi scusate il discorso è un altro quando io vendo la macchina usata devo dirglielo io quello che la compra come va se lui me lo chiede cosa gli dico ben hai mai visto in vendita macchine usate che vadano male ma non le compra nessuno quelle che vanno male se poi quello lì insiste nella tua macchina vuole sapere dei freni cosa gli dici dei freni regolari no oddio tu lo sai benissimo che se è bagnato a lui gli conviene fare così piuttosto che così perché la tua macchina se la conosci la eviti in mano tua ti salvi in mano un altro è omicidio colposo se proprio hai scrupoli di coscienza cosa fai gli dai le chiavi adesso che hai trovato uno che te la compra invece che rottamarla dai non li butti via i soldi ti dai le chiavi gli dici to porta la macchina dal tuo meccanico se il suo meccanico non se ne accogge o io la coscienza pulita ho fatto quel che dovevo stesso bel gesto palassate dalle chiavi della diga all'enel to portala dal tuo meccanico ma il meccanico dell'enel è lo stesso della sade e perché dovrebbe imbrogliare perché c'è imbroglio cristo con tutto quello che qui c'è cascato sopra questo è rimasto sotto ma l'imbroglio c'è nel contratto l'enel il 27 26 luglio 1963 prende in consegna il vaion dalla sade come impianto funzionante pagina 9 dell'allegato a del protocollo d'acquisto come funzionante se manca ancora la terza prova d'invaso manca il collaudo che è in corso come può essere funzionante con la complicità del meccanico si può fare come io non so insomma il passaggio di proprietà di una macchina no quello di una diga voglio dire è quasi più difficile di quello di una macchina io quello della macchina due tre volte l'ho fatto se adesso l'enel vende le dighe io una la compra poi vi spiego come si fa ma secondo me non è facile perché bisogna stabilire il valore bene dei beni mobili immobili di tutte le voci che entrano nel passaggio di proprietà ci vuole tempo allora per il giorno in cui il ragioniere della sade e quello dell'enel si siederanno alla scrivania io avrò avuto tutto il tempo di completare il collaudo che mancava e che nel frattempo con la complicità del meccanico avrò potuto fare altrimenti come farebbe con quale testa potrebbe la sade nel periodo di custodia iniziare la terza prova d'invaso chiedendo al ministero l'autorizzazione di iniziare la terza prova per arrivare alla quota di metri 715 sul livello del mare bastardi brutti bastardi e la raccomandazione di ghetti nel cassetto non superate 700 ma vuoi rinunciare a 15 metri d'acqua 15 metri d'acqua guarda sulla diga moltiplicato per la superficie di questa valle fa milioni di metri cubi fa la differenza tra una perdita un profitto per piacere con tutti i soldi in più dice la sade che ho dovuto spendere a far la galleria di sorpasso i muri di consolidamento le iniezioni di calcestruzzo sul toc adesso che sono costretto a vendere non perché lo voglio io ma perché mi obbliga la sade al prezzo fissato dalla sade io devo anche rimetterci sulla quantità ma perché motivo per la paura che casca il toc ma ma per piacere questo questo casca domani come tra 20 anni va bene noi facciamo un collaudo un giorno a quota 715 e chi si è visto si è visto tanto ormai la responsabilità penale per i diritti attivi e passivi pregressi sta all'enel la responsabilità di ciò che accadrà al vaiont è all'enel ma a chi giova il collaudo a 715 a chi compra o a chi vende se restassero padroni dell'impianto potrebbero anche aspettare qualche giorno qualche anno qualche mese per vedere se si sistema la montagna ma siccome bisogna vendere bisogna liquidare al miglior prezzo possibile l'impianto dunque si rischia la prova di invaso la terza inizia nel mese di aprile l'autorizzazione è arrivata iniziano all'inizio velocissimi a far salire l'acqua quando superano la vecchia quota di 6,50 6,60 dove è cascata la prima frana ricomincia a scuotere e tremare la montagna boati e scosse sono più forti perché stavolta l'acqua sta salendo molto rapidamente in quel periodo di forti malumori di inclinazione degli alberi e di franni del terreno e di boati del toc la Sade fa una mossa distensiva di pubbliche relazioni consegna al comune di Erto in quei giorni verso giugno le chiavi di una nuova scuola elementare costruita sotto il toc in località la Pineda una frazione di Erto per quei bambini che così non faranno più tutta la circonvallazione per andare a scuola quella scuola era finita da un anno e mezzo non davano le chiavi perché c'era pericolo se io sono il sindaco di Erto mi danno le chiavi della scuola vuol dire che non c'è più pericolo e se non c'è pericolo perché devo mantenere in vigore anche le ordinanze di divieto di accesso al lago io le revoco come vengono revocate quelle ordinanze si becca il sindaco di Erto due denunce una dall'Enel e una dalla Sade entrambe firmate Biadene per aver aperto al pubblico una zona di noto stato di pericolo noto stato di che? c'è pericolo o non c'è pericolo allora? ma sindaco guarda la scuola elementare durante l'estate del 1962 anche la scuola nuova viene a lesionarsi tutti gli edifici dalla parte del TOC hanno lesioni i pozzi non portano più l'acqua le porte non si chiudono più o non si aprono perché tutti gli edifici vanno a sconnettersi dalla fine di luglio però c'è un cambiamento sostanziale arriva l'Enel dalla fine di luglio l'impianto passa totalmente sotto la responsabilità dell'Enel ma non cambia niente la prova d'invaso è già avanzata alla fine di agosto sono a quota 712 mancano 3 metri al collaudo ma il 2 settembre il TOC non ne può più molla una scarica che è un settimo grado della scala Mercalli anche a Lungarone ha sentito il colpo la diga! calma! la diga è antisismica la sente neanche una scossa così ma è vero però sono le case di Erto che non la reggono sono già lesionate, viene giù uno stavolo in centro del paese è la goccia che fa traboccare il vaso adesso basta comune fai qualcosa e il comune di Erto fa una lettera sembra poco ma è civile una lettera all'Enel Sade dicendo tu devi togliere da questo comune tutte le cause di pericolo e dopo casomai rimettere in attività il tuo lago prima che qui succedano danni riparabili e non riparabili gliela mandano il 3 di settembre e poi aspettano risposta il 4 il 5 il 6 il 7 l'8 il 9 manca un mese il 10 l'11 il 12 settembre arriva la risposta dell'ingegner Biadene non entro in merito alle affermazioni piuttosto azzardate del comune di Erto la situazione qui è tenuta sotto controllo dal nostro ufficio locale ma che controllo? la scossa del 2 settembre ha compromesso l'equilibrio già instabile della frana il 12 settembre un'altra scossetta fa camminare la frana tutta insieme di 22 cm e cosa vuoi che sia? in certi punti la frana ha camminato per metri e no è diverso ti sto dicendo che le paline di rilevazione tutte 24 in alto e in basso dopo il 12 settembre hanno fatto un salto avanti tutte insieme Cristo la frana del TOC è una sola altro che due zolle questa si muove tutta insieme tempesta di cervelli il 17 di settembre terrorizzati si ritrovano all'impianto a discuterne i tecnici della Sade Enel o dell'Enel a questo punto chi sono? ingegneri perché i geologi li hanno licenziati da due anni Caloi continuava da mesi a mandare rapporti allarmati ma tutto sommato isolati e nessun altro geologo viene più consultato in questo periodo e poi la commissione di collaudo sono due anni che non va più al Vaillant e allora le castagne te le devi cavare tu ingegner Biadene da ordine di chiudere i rubinetti le saracinesche di bloccare il livello dell'acqua nel serbatoio per sette giorni tengono l'acqua ferma per vedere se in questo modo si stabilizza la frana niente da fare al ritmo di 1-2 cm al giorno il TOC si muove Cristo non si ferma più il 24 di settembre c'è l'ultima tempesta l'ultima riunione sono in pochi ormai nel frattempo hanno cercato di avere qualche informazione dai geologi un'istruzione ma un geologo non è un medico di base o gli hai dato il modo di seguire lo sviluppo di una storia o soltanto un cretino si sbilancia oggi per domani te le cavi tu le castagne del fuoco adesso hanno rassicurato l'Enel che è tutto sotto controllo ma al tempo stesso hanno cercato di avere aiuto non capiscono la situazione è questa intorno al tavolo sono fermi a quota 712 con una raccomandazione nel cassetto di non superare più la quota di 700 dunque bisogna togliere 12 metri d'acqua sì facile ogni volta che fanno i controlli nei tubi piezometrici sono quelle lunghe tubazioni che vengono infilate nei fori dei carotaggi per sfruttarli anche dopo in maniera da controllare l'altezza della falda acquifera dentro la montagna ogni volta che fanno i controlli dentro i tubi piezometrici trovano che ormai il livello dell'acqua dentro la montagna è via via sceso, sceso, sceso fino a diventare uguale a quello del lago come dire che non è più una montagna compatta ma è come un mucchio di ghiaia che non trattiene più l'acqua non è permeabile è completamente inerte frantumato sotto quell'acqua davanti nel lago è anche un muro una forza fondamentale per sostenere il fianco della montagna se gli togli l'acqua di fianco e che cosa farà la montagna? continuerà a scivolare piano piano o si metterà a correre? domandaglielo nessuno ha mai parlato così a lungo con una frana prima di quella del tocco ma l'ingegner Biadene non è uomo da colloqui solitari con la montagna come dal piazzo no, è razionale e dunque l'ordine è togliete l'acqua l'ordine viene trasmesso al capocantiere Pancini il giorno 26 settembre il giorno dopo Pancini parte per le ferie va in America se vi serve qualcosa ciameme buon viaggio ingegnere arrivederci l'acqua inizia a scendere al bayon il giorno dopo al ritmo di 70 centimetri al giorno e la montagna dietro non 70 no, il primo giorno sono 9 poi 10 poi 11 aumenta aumenta più tolgono l'acqua dal serbatoio più accelera la montagna come già era successo a Pontesei nel 59 che ore sono per favore? non manca tanto non ci sono precipitazioni straordinarie e rilevanti nell'ultima settimana prima del 9 ottobre 63 quel che accade è direttamente legato a questa gara riusciranno i nostri eroi a portare l'acqua nel serbatoio alla quota di sicurezza prima che gli caschi in testa la montagna e la gente che ci abita sopra il toc che facciamo? quelli bisogna sgombrarli mandarli via ordinanze di sgombero e la gente che ci abita davanti quelli no quelli li teniamo a quelli non si dice niente quelli vengono rassicurati anche se boati scosse aumentano provocano telegrammi allarmati dal comune di Erto scherzano gli operai scherzano giù a Longarone dicendo oh sapendo quel che succede su se quando casca la montagna alla diga tiene ciao Erto ma se quando casca la diga molla a Longarone andate in giro con stivali e con l'ombrella ma tutti sanno che la montagna sta cascando tutti scherzano su questo e proprio perché tutti lo sanno nessuno pensa che ci sia pericolo perché se lo sanno e non ti mandano via vuol dire che è tutto sotto controllo e invece la situazione si aggrava un telegramma dell'Enel Sade al comune di Erto Casso in data 8 ottobre 1963 ore 12 urgente acceleramento del movimento franoso zona TOC rende necessario sgombero delle persone segnaliamo quanto interessato procedere urgentemente a seguito del telegramma il comune di Erto fa un avviso che viene pubblicato si porta a conoscenza della popolazione che gli uffici tecnici dell'Enel Sade segnalano la instabilità delle falde del TOC ed è pertanto prudente allontanarsi dalla zona che va da Costa Gervasi o alla Pineda la gente di Casso in modo particolare si preomuri di approfittare dei mezzi dell'Enel Sade per sgomberare la zona e siccome le frane del TOC potrebbero sollevare ondate paurose su tutto il lago si avverte ancora tutta la gente che è estremamente pericoloso scendere sulle sponde del lago le ondate possono salire per decine di metri e travolgere annegandolo anche il più esperto dei nuotatori chi non ubbidisce ai presenti consigli mette a repentaglio la propria vita Erto Casso li 8 10 1963 siamo all'ultimo giorno oggi 9 ottobre 34 anni fa era una giornata di sole oh sì una di quelle giornate che in montagna è più limpido che d'estate ma che scuola se sei un bambino una giornata così prendi e vai su magari sul TOC perché in una giornata del genere si vede Venezia e da Venezia senti arrivare i fili del telefono da Roma a Venezia Venezia a Longarone Longarone vai on roventi di telefonate Biadene che telefona al geologo Penta a Roma Penta da Roma lo esorta a non fasciarsi la testa prima di essere la rotta gli dice che la situazione vista da lì non gli sembra così grave quell'altro gli dice che da Longarone sì poi scrive al capocantiere Pancini mi spiace ma devo farla rientrare dalle ferie Pancini oggi la velocità di avanzamento della frana è accelerata del 50% che Dio ce la mandi buona la resa mistica è comodo ingegnere non hai più tecnica ti resta la resa mistica alle 6 di sera chiude il cantiere c'è una macchina che lo aspetta per riportarlo a Venezia qui alla cabina di controllo sopra la diga del Vaillant resta un geometra Rittmeier con i suoi operai sono in due nella cabina di controllo le ultime ore del 9 ottobre hanno tolto un metro e mezzo d'acqua per arrivare alla quota di sicurezza ce l'hanno fatta ma la montagna ormai cammina a occhio nudo quando arriva il buio accendono una foto elettrica l'ultima notte che questa valle ha visto le foto elettriche è stato il 9 ottobre del 63 che sembrava a questi che fossero tornati tedeschi a far rastrellamenti e invece no che quella notte le foto elettriche illuminava i pini che si erano messi a inclinarsi le ultime ore a occhio nudo Rittmeier è lì nella cabina a vetri vede la montagna che gli casca fa due calcoli e si accorge che anche se arriva un'onda di 30 metri solamente li travolge e poi travolge certe frazioni di Ertocasso che non sono state sgomberate ma lui è un geometra non può sgombrare un paese telefona l'ingegnere a Venezia e qui parte la leggenda del Vaiont di una centralinista che abbia sentito la telefonata si sia intromessa a chiedere che cosa state dicendo c'è pericolo per l'ongarone o la bambina signora nostra è tranquilla e dorma bene Rittmeier viene rassicurato rincuorato da Biadene che lo esorta a dormire con un occhio aperto un occhio chiuso che non è facile in base alla telefonata vengono allertati i carabinieri di Erto quella notte a istituire un posto di blocco nessuno può percorrere la strada quella notte che da Erto scende a Longarone e viceversa anche l'ingegner Caruso che lavora per la Sade per l'Enel a Venezia il vice di Biadene ha degli ordini delle richieste per polizia stradale e carabinieri cui viene richiesto di preparare posti di blocco preventivi sulla statale di Alemania a Tai di Cadore e Ponte nelle Alpi a nord e sul di Longarone con che motivazione? credo non disturbare la frana non ne vedo altre e Longarone è lì davanti alla gola perché a Longarone non si dà l'allarme d'evacuazione per non creare panico o perché o perché è un rischio calcolato ma insomma i tecnici hanno le famiglie qui al Vaillon qualcuno si aspettano la fine del mondo manderebbero via almeno la moglie no? ma li hanno rassicurati che tutto è sotto controllo adesso che ore sono? 35? o mancano 4 minuti? non si sgombra un paese in 4 minuti il 9 ottobre del 63 a quest'ora Longarone è piena di gente nei bar a guardare una partita di calcio Ranger Glasgow contro Real Madrid c'era l'Eurovisione che insomma era una finta diretta cominciava alle 10 di sera no? dopo la partita iniziava l'Eurovisione e il secondo canale a Longarone era arrivato da pochi mesi e così quanti ragazzi scende dalle frazioni per andare a vedere la partita a Longarone davanti ai bar file di biciclette e motorini e dentro al bar nuvole di nebbia poi un trespolo e a 3 metri la televisione bianco e nero che filtra tra bestemmie fino al tavolo da gioco gente che gioca e guarda la partita ma non è la sola occasione per andare a Longarone c'era il cinema a Longarone le gelaterie fa città a Longarone non è mica paese vuoi trovare una ragazza in giro di sera mica stai qua vai giù a Longarone in strada piccola Milano la chiamavano Longarone qua su qua su in valle dove siamo noi oltre la diga un silenzio feroce l'ultima bava di ragno che tiene unita la frana al resto della montagna rotta e la frana è ancora là su un piano inclinato non c'è mica niente che la tenga attaccata al resto della montagna ma è lì ferma e poi va cos'è che la fa andare? quanti sono? 260 milioni di metri cubi di rocce non è mica questa roba qui quella dove siamo noi è un francobollo sulla frana del Vaillant ma che ti illudi la frana del Vaillant è partita lassù 5-600 metri più in alto di dove siamo noi su un costone di montagna che non si vede lassù in alto abbarbicati stavano i boschi un mondo intero fatto a M che alle falde aveva stalle una latteria aveva case una strada campi coltivati due torrenti uno stagno colline boschi un mondo intero fatto a M con gli animali nelle stalle che mugisce disperati con quelli alla catena che soffoca per scappare con gli umani che sono lì per governare le bestie e capisce di colpo che è troppo tardi un mondo intero passa da 60 centimetri a 100 chilometri all'ora adesso e non lo fa in silenzio testimoni oculare il parroco di Casso apro la finestra vedo i fili dell'alta tensione che arriva dall'Austria che spacca un corto circuito che illumina aggiorno la vallata i pini che si inclina violentemente e scivola un bosco intero che corre verso il basso ma quale Macbeth la montagna intera insieme al bosco corre riempie una zolla la vallata sbatte la seconda zolla che gli si capovolge sopra risale i costoni della montagna fin dall'altra parte una collina intera il collo isolato viene preso e inclinato di 40 gradi l'urto fa rimbalzare indietro la frana di 40 metri le montagne del Toc dopo il Vaillant si troveranno 150 metri più in alto del punto in cui sono partite questo è il mondo sul quale appoggiamo i piedi adesso e l'acqua era piena d'acqua il mondo dove siamo appoggiati noi adesso era l'acqua dove è andata l'acqua che era qui era pieno d'acqua qui dove siamo noi Cristo l'acqua e l'acqua non ci sta se la valle sta scomparendo l'acqua è schizzata verso l'alto ha fatto un'onda di 250 metri la vedi la parete punta l'onda più alta della parete punta la vedi la luce in cima alla roccia quello è casso l'onda è più alta del paese sbatte contro la roccia e perde slancio così quando arriva a varicare a varicare la roccia ha giusto la forza di prendersi il piano terra della scuola elementare che è la prima casa del paese le maestre dormivano al primo piano si svegliano di colpo sono sveglie il resto del paese viene sorvolato dall'onda che lo bombarda a schizzi che sopportano massi da un quintale che vanno a sfondare il tetto delle case l'acqua l'alluvione arriva dal cielo dall'alto da sopra il paese ma non fa morti per un non so quale miracolo si svegliano malconci ma ridotti al buio si ritrovano si contano nella piazza siamo vivi siamo qua siamo tutti ma ma oltre il bordo del paese non c'è più la strada non c'è più il mondo che cosa può esserci se qui è arrivato questo oltre il ciglio della gola sotto qui non c'è più altro che quel rumore tu prova a parlare con un superstite del rumore io ti posso descrivere le cose ma il rumore te lo immagini non accade in silenzio tutto questo è un'onda come un treno in corsa che si è spaccato in due sotto queste rocce metà dell'onda risale a dilavare le sponde del Vaillon c'è un paese certo è più basso è troppo vicino all'acqua ma c'è uno spuntone che sporge nella gola e l'onda sbatte rimbalza all'esterno e sfiora il paese un muro d'acqua più alto del paese lo sfiora i morti al cimitero si salvano di un pelo anche le frazioni del paese si salvano ma quelli di sotto a San Martino alle spesse a Patata il Cristo posti dove c'era gente gli passano sopra 60 metri d'acqua in un colpo solo la mattina dopo è un'alba livida cosa vuol dire alba livida io credo che l'alba livida è quando i tuoi occhi le tue labbra le tue narici quando i tuoi organi hanno sentito visto udito qualcosa che non puoi descrivere l'alba livida è in bianco e nero marron giusto ecco che cos'è l'alba livida un altro luogo comune vuol dire che questi cristiani qua non hanno mica parole per dire a chi non l'ha visto quel che gli è successo sono bigottiti sbalortiti sono come bambini da prendere per mano e arrivano i soldati gentili dagli elicotteri gli elicotteri americani per la prima volta nella valle arrivano gli elicotteri e i camion dei soldati che in tre giorni caricano tutti via di qua ma perché? perché c'è pericolo de che? ormai è già successo non si sa mai via evacuazione tre giorni per caricare le coperte per caricare le cose e via per tre anni con sussidio di 2000 lire per ubriacarsi e chi lavora perde il sussidio tre anni in giro a votare il referendum dove vuoi andare a vivere farsa Erto viene ricostruito in tre parti a Maniago nella piana di Pordenone a Ponte nelle Alpi nella valle del Piave e qui solo perché un gruppo di testardi a un certo punto torna indietro rioccupa le vecchie case ruba la corrente all'Enel e riconquista il diritto di cominciare a costruire un paese dove era prima a non lasciare una valle che altrimenti forse avrebbe dovuto restare vuota senza vita l'altra mezza onda passa sopra la diga del Vaillant nel punto più alto da quella parte l'onda è alta 250 metri nel punto più basso solo 150 ci sono i segni nelle rocce della gola di dove l'acqua è arrivata come se le aeree geologiche non fossero passate mai come se l'azione delle acque del 9 ottobre del 63 avesse rifatto la genesi del mondo in questa gola questo è l'anno zero in questo posto l'acqua si infogna e forma un lago in corsa alto 170 metri davanti alla diga che ha le sponte della gola dietro al muro ma davanti all'ongarone al centro del mirino all'ongarone hanno sentito il colpo temporale è andata via la luce è la partita che rabbia che rabbia non vedo la partita vai fuori con la sigaretta accesa e vedi che trema trema la vallata mezzo paese alla luce ma noi no e intanto sopra la gola del Vaillant si vedono questi lampi è un temporale no è un cortocircuito è un temporale tremano le pareti della gola è temporale senti che tuoni e intanto arriva il vento è un temporale è un temporale d'ottobre che cambia il tempo succede no che arriva questo vento umido schifoso ma strano vento che porta fuori una specie di acqua polverosa bagnata che macchia i vestiti che cava il respiro un'acqua strana un vento poi che non è come il vento di solito che arriva fa un colpo smette ricomincia questo vento come inizia non smette più spinge e aumenta spinge e aumenta spinge e aumenta è Cristo non è vento questo e neanche porta un odor ma neanche avessero scoperchiato tombe ma che cos'è una cantina maledetta è un pistone marcio che spinge avanti l'acqua questo è qualcosa che fa la diga quattro minuti da quando piomba la montagna a quando arriva l'acqua all'ongarone un minuto e venti per percorrere la gola a 80 km all'ora in muro dell'acqua la diga via quattro minuti per decidere come vivi o come muori quelli che vanno a casa dove vai vado a svegliarli non ce la farai mai a svegliarli scappa quelli che prende la macchina il motorino la bicicletta aspettami migliaco aspettami ognuno per conto suo no no insieme e i figli i figli due a testa due a testa via e quelli che non sanno se salvare l'amorosa o i genitori e intanto tremano le pareti e intanto trema il terreno e intanto si annebbia la vista e intanto arriva questo vento che fa volare i coppi che fa spaccare i rami e arriva sto rumore come un treno in crescita un treno che arriva Cristo se sta arrivando il treno mi tolgo dalle rotaie dove vai? che dovunque ti sposti sei ancora sulle rotaie scappa non ti aspetto scappa vai tu non ti voglio aspettare vai tu che sei giovane Cristo prima che arrivi l'acqua ci pensa l'aria come all'uscita di un tunnel della metropolitana prima del treno arriva l'aria compressa dall'acqua in corsa nella gola del Vajon raggiunge una fata una forza una pressione pari a un fallout nucleare di due bombe atomiche di Hiroshima via i vestiti via la pelle via quello che ci stava dentro carta polvere quanti corpi vuoi trovare dopo una bomba atomica dentro una valle chiusa vaionte anche questo mille bare con qualcosa dentro e quasi altrettante vuote non ce n'era per tutti da seppellire litigavano per avere qualcosa di mettere in una bar quel che non ha fatto l'aria lo finisce l'acqua questo treno d'acqua che esce dalla gola del Vajon è alto 70 metri e corre a 70 km all'ora ma come esce dalla gola perde il binario perde le sponde della gola e fa un salto un niagara così nel letto del piave raccoglie le pietre del fiume e sbriciola con quel che trova l'ongarone pietre, acqua e fango prendono le case che si trovano dinanzi e le sportano su per la montagna verso le gambe di quelli che stanno correndo disperati verso la salita che sono gli unici che riescono a salvarsi e sentono arrivare l'acqua che gli gorgoglia le caviglie che gli prende le cosce che gli arriva a sorpassare le spalle Cristo muoio no mi aggrappo all'erba e l'acqua che mi ha sorpassato in su torna indietro sono bagnato non capisco se è bagnato di fuori o di dentro ma vivo Cristo vivo e l'acqua defluisce spianando l'erba defluisce e vedo che rientra nel fondo della valle dove una specie di cappuccino torbido sta coprendo il fondo della valle entra ed esce dalla parte opposta una lingua d'acqua a spazzare un altro paese e in questo modo risale per due chilometri il piave controcorrente l'onda del Vaillant mezza onda del Vaillant a parar giù paesi nel letto del fiume l'altra mezza onda si è già presa alla direzione del mare e a ponte nelle Alpi a Belluno e chilometri dopo il Vaillant il muro d'acqua che corre lungo il piave è alto ancora 12 metri io da bambino mi ricordo che mi portavano sul letto del piave a vedere le cose del Vaillant appese sugli alberi io capivo che erano le cose del Vaillant ma non ho mai capito io chi le aveva appese lassù cosa potevo immaginarmi che l'acqua fosse arrivata fin lì e il giorno dopo aspetta l'onda di riflusso che era andata in su 15 minuti dopo la prima ondata torna indietro spiana è un'onda di riflusso spiana fa tutto liscio quel che la prima ha mosso la seconda sistema come è sulla spiaggia l'onda di riflusso del mare e a Longarone fa tutto piano liscio e lì la mattina dopo si affacciano i soccorritori più niente da fare o da dire cinque paesi migliaia di persone ieri c'erano oggi sono terra nessuno ha colpa nessuno poteva prevedere no io ho scritto la Sade spadroneggia ma i montanari si difendono per piacere signora Merlin ci sono i morti niente speculazioni politiche un sasso è caduto in un bicchiere l'acqua è uscita sulla tovaglia tutto qua no io ho scritto una frana di 50 milioni di metri cubi minaccia vite avere per piacere signora Merlin ci sono i morti sciacalli 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 scriveva Montanelli sul Corriere della Sera sciacalli ripetevano a lettere cubitali i muri delle città italiane contro chi osava mettere in discussione la verità della disgrazia del Vaillant ma ti pare che questa si può tenere nascosta beh dimmelo tu la diva del Vaillant è il murro di Belluno funziona benissimo e adesso fatti un nodo al fazzoletto io il 10 ottobre andavo in seconda elementare mi sveglio la mattina a 7 e mezza mia mamma piange non perché ha litigato con mio papà che non era a casa quella mattina ha fatto il ferroviere mio papà quella mattina portava la corsetta Treviso Conegliano lavoratori studenti come arriva al ponte della Priula a Susegana sul Piave trova un segnale di rallentamento il treno deve marciare più piano a passo d'uomo perché perché l'acqua del Piave nera lambisce le arcate del ponte quella mattina porta giù di tutto carcasse di animali alberi sradicati automobili rovesciate e le sponde del ponte della strada lì affiancato alla ferrovia sono nere di gente spalla a spalla civili e militari girati verso l'acqua ognuno una pertica in mano venute fuori da dove? dagli orti? con quelle pertiche fanno un pettine per fermare i morti che in mezzo al resto vengono giù sul filo della corrente altra gente con i rampini li allinea sugli argini da ogni paese del Veneto lungo il fiume quel giorno la gente molla la vendemmia corri a vendemmiare sul Piave per questo che è il più grande funerale che mai abbia attraversato questo paese dopo Caporetto e non era solo il suo era quello di quell'Italia contadina che non serviva più a nessuno potete alzarvi in piedi per favore quante sono mille persone? i morti del Vaillon sono due volte noi qui adesso a volte ci dicono di osservare un minuto di silenzio è una fesseria i silenzi non si osservano si cantano bisognerebbe cantarli non esiste una canzone per questa storia e per il Vaillon il vostro silenzio è quella canzone grazie grazie e non dimentichiamolo grazie a tutti 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 grazie a tutti